Ciao a tutti ragazzi, siamo qui su Anthem nuovamente per poter andare avanti e visionare un altro po' di gameplay magari in modo più approfondito appunto come da titolo, quindi esploreremo un altro po' di Anthem abbiamo finito le missioni tra virgolette secondarie che fatte assieme ci portavano a sbloccare la missione della storia principale una cosa che mi era lamentato di questo titolo era l'eccessivo lunghezza dei caricamenti però ho appena scoperto che al The One ci sarà una patch che sostanzialmente ci permetterà di ridurre i caricamenti quindi The One per tutti è fissato per circa il 22 se non sbaglio, quindi la patch uscirà verso quella data e quindi adesso noi ci andremo a fare un po' di missioni principali questa che cosa è che non l'ho vista? questa è una cosa nuova, non me l'avevo mai accorta ok, qui siamo nel lab principale, ovviamente in prima persona vediamo con chi dobbiamo parlare andrò a visitare il bar per prendere la missione successiva ovviamente con questi coniab possiamo parlare per approfondire il discorso ma al momento vorrei giocare mi manca poco per il livello 8 così sblocco un nuovo strale ok, parliamo con Owen, no? che c'è? sei stato tu a chiamarmi no, tu aspetta lo scrutatore vuole tornare nel cuore della furia userà il cenotafio come arma abbiamo decifrato l'archivio recuperato dall'accampamento dei funzionari ora sappiamo perché vuole i manufatti dei creatori potrebbe non farcela sapevate che lo scrutatore era a Liberalia durante l'attacco? è riuscito a fuggire quando il cenotafio ha raso al suolo la città oh merda è spietato, motivato e feroce è un codificatore formidabile e un pilota brillante persino i suoi uomini lo temono la tempesta lo farà a pezzi nessuno sopravvive al cuore della furia tu sì abbiamo inoltre ragione di credere che abbia trovato un modo per incanalare la potenza del cenotafio e non possiamo permetterglielo ovviamente dovete riuscire ad attraversare il cuore della furia arrivate al cenotafio per primi e silenziatelo siete specialisti, no? la fai facile tu stiamo parlando di un cataclisma è vero, non siamo attrezzati per affrontarlo già ma alcuni specialisti sono sopravvissuti al cuore della furia e lo studiano ancora adesso ma sul serio? scusate, dovrei sapere di cosa state parlando i miei vecchi compagni, Alok e Faye pare che lo scrutatore li stia cercando forse Faye ha scoperto qualcosa la loro ultima posizione oh, posso? beh, Alok e Faye direi che tra di voi non è finita bene non saprei ci siamo allontanati dici? sapevo che Alok non ti ha perdonato per averlo salvato e Faye è... dove andiamo? ok è uno scherzo Alok e Faye lavorano con la principessa Simba il capo dei funzionari ma quella è soltanto una contrabbandiera nient'altro che una spietata criminale ne abbiamo davvero bisogno sì, per sopravvivere al cuore della furia e arrivare al cenotafio prima dello scrutatore davvero? io e te siamo una squadra collaudata questo Tassin ci ha scelti ci copriamo a vicenda bene senti, visto che lo scrutatore sia lanciere che codificatore potrebbe farci comodo un incredibile codificatore che sia in grado anche di pilotare gli strali oh, impazienta le lezioni da pilota stanno andando bene ma potrebbero volerci anni ok ora senti questa l'accampamento della principessa Simba è una specie di circo un circo itinerante gestito da criminali sanguinari amanti dei regali non entrerai a mani vuote cosa potrà andare, storto? già cosa potrà mai andare, storto? ok, quindi devo raggiungere i nostri amici e i nostri vecchi compagni quindi andiamo avviamo la spedizione e ovviamente in realtà sto potenziando poco lo strale a livello estetico perché boh mi sto più concentrando sul gameplay e poi nel prossimo livello posso cambiare strale quindi possiamo alternare magari due stili di combattimento che sicuramente mette tanta varietà ok trovare i vecchi amici difficoltà normale avviamo spedizione pubblica vediamo se ci trova qualcuno nel matchmaking venga venga grazie a tutti 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 infinito è abbastanza lunghino, li posso aspettare, però va bene così, se lo sistemano pure un 30 secondi in meno sarebbe più che sufficiente. Poi per arrivare a livello 8 e finiamo questa missione probabilmente ci fassero a livello 8, desidiamo quella strada di sbloccare, c'è quello che vedete in foto, che diciamo è più versatile, sennò c'è la rocca forte, la roccia, diciamo, quello da difesa o quello da più agilità, vedremo un attimo quale utilizzare. Sarei curioso di provare quello di agilità diciamo. Per fine siamo oltre tre quarti di caricamento. Un secondo. Ok, vediamo in prestito l'amplificatore di questo vettore infestato da chermigli di contrabbando. Non è sicuro qua fuori. Che noia la sicurezza, è il momento di un'avventura da specialisti, vedrai. Alcuni metamorfici nella zona hanno rubato delle armi alla principessa Sim. Per recuperarle potrebbe essere un buon modo di rompere il chiaccio. Non si arrenderanno tanto facilmente però. Ma mi stai trasportando ai miei compagni perché va troppo lontano. Vabbè, quindi un altro caricamento purtroppo. Mannaggia. C'è la missione già iniziata, alcune volte ti mette insieme ai vostri compagni. Questa cosa è buona. Da una parte ovviamente perché non ti fa rimanere troppo indietro una missione. Anche se ci sono scene intervezze e quant'altro. Ma ovviamente tu devi aspettare un ulteriore caricamento oltre il caricamento stesso della missione. Però è molto più veloce, voglio dire. Ok, ci siamo. Ok, abbiamo le armi. Bene, ma non è abbastanza. I funzionari non si stupiscono facilmente. Ho segnato la prossima meta. Qui cosa c'è? Ma infatti, i metamorfici ne hanno presi al culo nella negra brigata di Sim. Probabilmente anche loro li avevano rubati a qualcuno, ma faremo bella figura con Sim se ne riportiamo. Ti sarei occupato di quegli insetti ambulanti, si intende? Come vedete il gameplay è molto verticale. Devi cercare un ursix. Ehm, perché? La principessa Sim dovrà organizzare grandi feste, ma che l'ursix arrosto sia il suo piatto preferito. Bene, ora prendi un pezzo di quella carne. I metamorfici mangieranno tutto questo. Ah, bene, è fatta. Un filetto di ursix pronto per essere servito. Più è fresco, meglio è. Andiamo a consegnarlo. Ho segnato il covo della principessa Sim. Comunque è veramente bello a livello grafico. Il mio vettore è quasi da Sim. Prima di entrare nel vivo della riunione, pensi di vero che Aluc e Faye ci aiuteranno? Siamo professionisti. Ho visto professionisti darsene di santa ragione. Non andrà così. La posta in gioco è troppo alta. Speriamo. Se il dominio mette le mani sul cenotafio, i nostri dissapori saranno l'ultimo dei nostri pensieri. Ok, sono riuscito a entrare. Come hai fatto? Mi sono nascosto in una gabbia di germigli. Non ne vado fiero. Se i funzionari ti trovano. Non preoccuparti, questo posto è uno sballo. Ci vediamo dentro. Tu che sei? Devo vedere degli amici. Lavorano con la principessa Sim. Cosa hai portato? Un omaggio per sua maestà. Può andare. Entra pure. Ok, ma entriamo nell'altra prossima remissione. Comunque è veramente bellino alla fine. Ci sono dei piccoli cosi da sistemare, però secondo me va bene alla fine. Cioè, non capisco tutto sto astro. Sì, Don Grey c'è stato un poco, però... Com'è andato il viaggio? Il viaggio? Oh, è stato fantastico! Sai, io sono uno che adora scroccare passaggi ai contrabbandieri. È stato come viaggiare in prima classe. In capo di ammirate le meraviglie del palazzo. Onorate la principessa Sim, che regni in eterno. Sono a conoscenza del fatto che non è una vera principessa. È solo una contrabbandiera con manie di grandezza. Hai dato un'occhiata al posto? Credi che entrerei lì da solo? Sei pazzo? No, sono rimasto qui ad aspettarti. E poi cerchiamo i tuoi, amici. Troviamo Aluc e Faye. Su, andiamo. Ehi, quelli in là giù sono loro. Eh, un piacere fare affari con voi. I nostri affari non sono ancora confusi. No? Pensavo avessimo uno. Sorpresa. Ah, Aluc, chi è questo? Nessuno. Un vecchio amico? Ti prego, invita il tuo vecchio amico a mirsi a noi. Ah, beh, mi spiace ma dobbiamo andare. No. Prima celebreremo il nostro accordo secondo le tradizioni del mio popolo. Prego, avvicinati, amico di Aluc. Un giglione di scorpide molto acido potrebbe bruciare un po'. Parecchio. Sai, è che ho mangiato tanto a colazione. Rifiutare un pasto è un grave insulto nei confronti di un anfitrione. Sì. Oh, cavolo. Scusate l'ignoranza principessa, non sapevo fosse come stabile. Vengo da una terra aspra e inospitale. Ma sono le piante scarselle e gli animali ancora di più. Prima che il dominio ci conquistasse, avevamo un detto. E il cibo è vita. La vita è notta. L'abbiamo capito. L'abbiamo accettato. E ci ha resi più forti. Davvero ottimo, principessa. Quello era solo l'antipasto. Signori. Oh. Ah. Ecco a voi. La sacca di feromoni di una giovane mantica. Macerata per un anno intero in un tino di veleno di chimera fermentato. Una rara prelibatezza che conservavo per un'occasione speciale. Dopo di voi, principessa. Non potrei mai disonorare il mio nome mangiando prima degli ospiti. Io adoro la manticara. Oh. E l'accordo? Ringrazia il tuo amico, Alok. Ecco, non hai una bella cera. Devo solo sedermi un attimo. Che cosa vuoi? Credo che con questo intendesse dire grazie. Ho un contratto. Un contratto? Beh, non ci serve la tua carità. Eccellente. Faye, Alok, lui e Owen. Codificatore. E' apprendista a lanciare. Mi mandano in corpus. I corpus? Oh. Sei diventato un pezzo grosso ora. Hai un bel coraggio dopo tutto questo tempo. Non fare il drammatico. Siediti. Sto in piedi. Torniamo al vettore. Li spiegherò tutto. Stiamo bene per conto nostro. Grazie e addio. Un attimo. Qualcosa non va. Inboscata, vabbè. Non è il domenio. Via! Disperdetevi! Proteggeremo il tuo amico. Non preoccuparti. Ci vediamo là. Ovviamente tutto liscio non poteva andare. Ci mancherebbe. Ok, vediamo che succeda. Sto facendo interessante. Comunque la trama non è così brutta come dicono. Certo, è molto dispersa. Bisogna vedere come evolve. Assolutamente non è male. Adesso è un gioco comunque. Tra virgoletto online. Adesso è pensato per online. Ok. 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 Sì, i caricamenti devono per forza sistemare un pochino. Guarda, pure 30. C'è un pelino in meno che sono veramente lunghissime. Questo è un piccolo difetto che spezza troppo l'avventura, secondo me. Però vedremo. Come ottimizzano il tutto. Che ok il caricamento iniziale, il grosso caricamento iniziale della missione, dato che ho poi World e quant'altro. Però durante le missioni spezzare in continuazione è un po' una seccatura. Sto giocando con la fibra, con ancora i 7, quindi la velocità c'è alla fine. Quindi non penso che dipenda da questo tanto. Sì che deve caricare un sacco di cose e quant'altro, però dovevano un attimino ottimizzare i miei distrutti, secondo me. Vogliamo di più sussidere il futuro. Vogliamo di più sussidere il futuro. Ok, poi dopo questa partita ci giocherò veramente dopo il D1. e vedremo se hanno sistemato questi caricamenti, insomma. Vi ricordo che siamo ancora nel mezzo della missione e sto caricando veramente tanto adesso. Vabbè. Comunque, ormai ci siamo dentro, quindi finiamolo. Grazie. 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 Dovremmo esserci probabilmente... Ok. Ok. Perfetto Speriamo di far ricominciare da capo la missione Mannaggia la miseriaccia Ma perché così tanto tempo? Forse che gli altri non sono stati filmati Che già l'avamo visto Vediamo che succede Altro caricamento E vabbè Attendiamo ancora Se devo ricominciare la missione aspetto il day one Che sistemano poi il tutto purtroppo Perché non mi va di rifare tutta capo adesso Detto molto sinceramente Se mi fa invece ricominciare da quella missione Va bene No niente La devo rifare da capo ragazzi È l'ora che ho Al momento spengo Che non mi va di rifarla stasera Un'altra volta Aspettare tutti i caricamenti E E aspetterò quindi la patch the one Per riuscire a giocarlo meglio Ma comunque mi da L'icona è cambiata Perché vediamo che succede Io se mi dice qualcosa di diverso Tipo continua No Va bene Niente E va bene Dai Ehm Non ci riproviamo stasera Però due volte La stasperizione Madonna santa Che seccature Quando fa così Può succedere Certo però Non è mai bello ecco Dopo caricamenti su caricamenti Non ci riproviamo stasera 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 Grazie. Don't know. Ok, prendo in prestito l'amplificatore di questo vettore infestato da chermigli di comprabando. Non è sicuro, Paponi. Che noia la sicurezza. È il momento di un'avventura da specialisti. Vedrai. Alcuni metamorfici nella zona hanno rubato delle armi alla principessa Zile. Recuperarle potrebbe essere un buon modo di rompere il ghiaccio. Non si arrenderanno tanto facilmente, però. Facciamo il riltratransporto all'area. Dire la missione. E rifacciamo tutta la trafia di prima. Vabbè, perdogliamola, dai. Beh, abbiamo sposto un po' le cose. Allora, guarda. Allora, guarda. hai un'occhiata in giro e cerca il proposito d'armi ok abbiamo le armi bene ma non è abbastanza i funzionari non si stupiscono facilmente ho segnato la prossima meta ok prova a cercare i manufatti abbiamo i manufatti hai quasi tutto ho segnato la posizione vedi quello 6 è il tuo prossimo avversario la principessa si ma adora organizzare grandi feste sempre che il 6 anno questo sia il suo piatto preferito non è non è non è Bene, ora prendi un pezzo di quella carne. Va bene, ce l'abbiamo rifatta, siamo dove eravamo prima. Speriamo che non crashi di nuovo. Prima di entrare nel vivo della riunione, pensi davvero che Alucanfei ci aiuterà? Siamo professionisti. Ho visto professionisti dansere di santa ragione. Non andrà così. La posta in gioco è troppo alta. Speriamo. Se il dominio mette le mani sul cielo da fior, i nostri dissapori saranno l'ultimo dei nostri pensieri. Ok, sono riuscito ad entrare. Come hai fatto? Mi sono nascosta in una gabbia di carnigli. E non mi vado fiero. Se i funzionali ti trovano. Non preoccuparti, questo posto è uno spazio. E non preoccuparti. Ciao Ok, speriamo che non crashi di nuovo e non mi debba rivedere tutta la scena per forza Speriamo di no, però che non conosciamo ormai Ma mi sa che la dobbiamo rivedere, secondo me, è palese Ok, io salto E niente ragazzi, se dobbiamo rivedere un'altra volta, vi lascio un attimo a riguardarle che non ho che fare Sono a conoscenza del fatto che non è una vera principessa, è solo una contrabbandiera con mania di grandezza Hai dato un'occhiata al posto? Credi che entrerei lì da solo? Sei pazzo? No, sono rimasto qui ad aspettarti E poi cerchiamo i tuoi amici Troviamo Aluc e Faye Su, andiamo Ehi, quelli in legge sono loro Ehm, un piacere fare i affari con voi I nostri affari non sono ancora confusi No Pensavo avessimo uno Accordo Aluc, chi è questo? Nessuno Un vecchio amico Ti prego Invita il tuo vecchio amico a mirsi a noi Ah, beh, mi spiace ma dobbiamo andare No Prima celebreremo il nostro accordo secondo le tradizioni del mio popolo Prego Prego Avvicinati amico di Aluc Pungiglione di scorpide molto acido potrebbe bruciare un po' Parecchio Sì Eh, vabbè Scusate l'ignoranza del Cipessa Sapevo possibile Sto per guardare il caso Sto per guardare il nostro Pugnione di scorpione Sono piante scarsiche E gli animali ancora di più Prima che il dominio ci conquistasse Avevamo un detto Il cibo è vita La vita È nulla L'abbiamo capito L'abbiamo accettato E ci ha resi più forti Davvero ottimo, Principessa Quello era solo l'antipasto Signori Ecco a voi La sacca di feromoni di una giovane mantica Macerata per un anno intero in un dino di veleno di chimera per me Una rara prelibatezza che conservavo per un'occasione speciale Dopo di voi, Principessa Non potrei mai disonorare il mio nome mangiato prima degli ospiti Io adoro la mantica E l'accordo? Ringrazio il tuo amico, Alok Ecco, non hai una bella cera Devo solo sedermi un attimo Che cosa vuoi? Credo che con questo intendesse dire grazie Ho un contratto Un contratto? Beh, non ci serve la tua carità Eccellente Faye, Alok, lui è Owen Codificatore E' apprendista lanciere Mi mandano i corpus I corpus? Oh, sei diventato un pezzo grosso ora Hai un bel coraggio dopo tutto questo tempo Non fare il drammatico, siediti Sto in piedi Torniamo al vettore, lì spiegherò tutto Stiamo bene per conto nostro Grazie e addio Un attimo Qualcosa non va Truppe del dominio Via! Disperdetevi! Incroggiamo le dite e speriamo che non salti Ci vediamo là Ok, il caricamento Ci siamo La musichetta è rimasta Forse Ti prego Non saltare Nell'altra volta Ti chiudo il gioco Ah, c'è un gatto Speriamo che non ci salti Se salti, ragazzi Lo segnala E... Alla... Insomma E vedremo il da farsi Speriamo che non salti No, sembra che non si è saltato Perfetto, bene, bene Ok, facciamo una cosa al vettore Maledetta calma Coprici D'accordo Ho trovato uno strale Owen, cosa stai facendo? Le copra Non sai usare un'armatura Ti farai ammazzare Non si è sparo per primo Ah, devo aspettare i miei amici Che non sono ancora non pronti Sono nel caricamento Eh, ma... Se non posso giocare Che devo fare? Eh, ma se non posso giocare Ma dai, che ne ha presa per il culo Che vuol dire Spera sconfitta Saranno bloccati Ma no, dai Ma che è stato Che, che caso Che significa, dai No Ma non ce l'ho d'umore Significa squadra sconfitta Cioè, la prima volta Mi hanno disconnesso La seconda oltre Non mi hanno fatto giocare Ma non dimmi che devo Rifarmi tutto da capo Perché ti disinstallo Anche E ci giocherete Quando è tutto sistemato Dai, sono 60 caricamenti Che non ho giocato Praticamente Che non ho giocato Non so che dire, ragazzi Aspettiamo il nostro caricamento ancora Vediamo che cosa succede A sta missione Che è diventato un incubo Che food Che può Che cos'è E che cos'è Che cosa Che cosa Ok, va bene, almeno è partita. Ah, lui è il mio amico, sto sparando io. Ah, un altro centro! Maledizione, l'avevo quasi preso. Ragazzi, sono in troppi! Credo che il servizio è scattato. Stano attaccando il vettore. Resistete, sto arrivando! Oh, e sono qui! Perché non riesco a muovermi? Ti sei fatto prendere dal panico! Il tuo strale è in blocco! Ora che faccio? Vieni giù la testa! Non riesco a sparare! Si mette male! Sbarazzatemi! Non devono condire i mettoni! Ci penso io! Mi dice che quando funziona è molto divertente, alla fine. Non funziona niente! Non funziona niente! Non riesco! Non preoccuparti, sei in salvo. Il domenio sta cercando di riprendersi. Meno male! Voglio dire, gliel'abbiamo fatta vedere! Adesso non mi dispiacerebbe... Entrare in quel vettore. Ma, vabbè. Un ulteriore caricamento, tanto che non farci mancare niente. Però, altrimenti, la missione finalmente sembra avessi conclusa. Ma aspettiamo, ovviamente, che ci si sincronizzi il tutto. Per non incorrere i problemi futuri. Si sa mai. Comunque, ragazzi, questo è quanto. Io stoppo la live qui. Spero che il video vi sia piaciuto anche con i vari problemi che farò il titolo. Mi sa, c'è qualche scena ancora? No. Ok, però siamo pure saliti di livello. Ok, si è sincronizzato il tutto. Ok, livello 8. Puoi scegliere uno degli... Possiamo... Un'altra strada, possiamo scegliere o il guardiano, o il colosso, o l'interceptor. Uno di questi tre. Quindi, mo... Poi lo scegliamo e vi faccio vedere un pochino pure un'altra classe. Tutti, ragazzi. Grazie mille. Ovviamente se lo farò vedere la IA questo problema, così magari... Oh... 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 Grazie a tutti